Siamo sulla home page dell'Archivio della Memoria della Valle dei Laghi, realizzato da Ecomuseo della Valle dei Laghi, per visitare la sessione dedicata alla genealogia. Essa è frutto di un enorme lavoro fatto da Ettore Parisi, che con passione ha dedicato molto tempo, molte giornate, molte ore di volontariato per ricercare tutte le famiglie presenti in Valle dei Laghi, almeno da metà Ottocento. Per far questo ha consultato alcuni archivi parocchiali prima e l'Archivio di Ocesano Trentino poi. Tutto quel lavoro è andato a concretizzarsi nella realizzazione di schede di famiglia. Qui è ben spiegato come funzionano le schede. Per le famiglie più antiche della Valle, Ettore è riuscito a risalire fino al 1500, perché l'uso obbligatorio del cognome, ereditato da padre in figlio, risale proprio al 1564 ed è stato dettato dal Concilio di Trento al fine di evitare matrimoni tra consanguinei, per cui al massimo possiamo arrivare al 1500, perché era indicato figlio di. In avanti invece la sua ricerca è arrivata all'attualità, ma noi abbiamo qui riportato il suo lavoro fermandoci al 1923 per una questione di privacy. Pensiamo che chiunque sia in grado di sapere chi è il suo antenato nato prima del 23. Abbiamo poi pensato di fare questa pagina dedicata a Oltre la Valle, dove abbiamo messo link a portali, a siti esterni. Questi che riguardano proprio la genealogia come il nostro, Nati Trentino e gli antenati, che invece è per tutta Italia, ma anche altri siti che possono darci informazioni interessanti sui nostri antenati, per cui qui vi fate un giretto e potete un po' vedere che cosa vi proponiamo. Arriviamo a quello che è il cuore del lavoro, le famiglie. Abbiamo 167 schede di famiglia. Ora ve ne faccio vedere una a titolo esemplificativo di come funziona la ricerca su una scheda di famiglia. Margoni è la mia famiglia, digito, col cerca, invio, mi si arriva la scheda, ci clicco su ed ecco questa è la scheda della famiglia Margoni. Vedo che ha una copertura temporale dal 1500 al 1923, una delle famiglie dove abbiamo più informazioni, copre tre paesi, Ranzo, Covelo e Ciago. Vedo che questi tre paesi li ha inseriti in scheda con colori diversi, così che sia più immediata il riconoscimento. Ranzo, Nero, Covelo, Azzurro, Ciago, Rosso. Perciò sono pronta adesso per cercare, devo cercare all'interno della scheda, perciò nella scheda faccio CTRL F e scrivo Valentino lì. Vedo che di Valentino ne ho 14. Vado a ritroso per arrivare nell'ultima pagina, l'ultimo Valentino che c'è e vedo che c'è un Valentino papà. Torno più indietro e vedo un Valentino desiderio che ha sposato la Rosina Zuccatti e questi sono proprio i miei antenati. Allora, ingrandisco un pochino per spiegarvi come funziona. Allora, davanti c'è un numero d'ordine, in questo caso il numero 83, Valentino desiderio e il suo nome nel registro dei battezzati della chiesa di Ciago, nato nel 1875, morto nel 1948, si è sposato nel 1920 con Rosina Zuccatti, che è nata, che è morta, che è figlia di paternità e maternità e provenienza. Per cui ho tutte le informazioni riguardo la coppia. Qui sotto vedo che ha avuto Angelo, il primo genito, e lo vedo con un numero, il numero 102 vuol dire che qui sotto troverò la famiglia di Angelo che prosegue la dinastia in Valle dei Laghi. Poi c'è Guglielmina, che femmina non prosegue la dinastia, così come chi è emigrato, chi se n'è andato dalla Valle dei Laghi, chi non ha avuto figli, chi è morto piccolo, insomma tutti questi non proseguono la dinastia, per cui sono semplicemente segnalati col nome e col matrimonio, se sono sposati. 103, questo è il numero del mio papà, che va avanti la dinastia, cioè finché Ettore c'era, lui ci dava la dinastia fino ai giorni nostri, in privato. È una dinastia che va avanti, e poi ci sono queste tacche, che vuol dire che ce ne sono altre due in questa famiglia, nate dopo il 23, le mie zie, che femmine non vanno avanti con la dinastia. Tutte queste tacche, insomma, sono figli nati dopo il 23, tutti questi numeri sono figli nati dopo il 23, che la famiglia prosegue in Valle dei Laghi, questi accoppiati sono gemelli. Detto questo, io mi apro un foglio per riportarmi le mie informazioni, perciò parto con i margoni di Chago, e eravamo al Valentino numero 83, evidenzio questa riga, in questo momento non mi interessano gli altri familiari, ma proprio andare in linea diretta, risalire indietro, incollo qui, vedo che Valentino del 1875, lui è nato, e il suo papà è il numero 64, perciò risalgo indietro fino al numero 64, ottengo un altro Valentino, che me lo copio, CTRL-C, capo riga, CTRL-V, me lo metto, questo Valentino del 1847, che è sposato la domenica Perini, è figlio del 50, perciò vado al 50, CTRL-C, a capo, me lo incollo, e vedo che c'è un Pietro Bartolomeo, Valentino del 1819, è figlio del 31, come spesso accade, i nomi si ripetono nelle famiglie, 31, 31 ha avuto un sacco di figli, che non ci sono stati tutti su una riga, CTRL-C, e a capo, CTRL-V, Pietro, Pietro si è trasferito a Chago, è nato nel 1794, figlio del 21, sarà stato lui a dare origine alla dinastia dei Sarasini, di cui faccio parte, visto che a Ranzo Sarasini non ce ne sono, CTRL-C, chi lo sa, CTRL-V, ecco un altro Pietro, che è di Ranzo, perché lo vedo dal colore nero, perciò qui cominciano i Margoni di Ranzo, è figlio del numero 15, vado al numero 15, vado al numero 15, CTRL-C, CTRL-V, eccolo qui, è un domenico, nato nel 1733, e il suo papà è il numero 10, eccolo il numero 10, CTRL-C, CTRL-V, è nato nel 1696, e è figlio del numero 8, eccolo qui, CTRL-C, CTRL-V, e un altro Pietro, che è figlio del numero 7, ce ne sono tre però, che vanno avanti, da questo, CTRL-C, CTRL-V, e un Nicolò, che è nato dal numero 6, e siamo arrivati nel 1639, ed ecco qui, siamo arrivati nel 1607, figlio del 5, CTRL-C, CTRL-V, le notizie si stanno facendo più scarne, questo Pietro ha sposato Maddalena da Molveno, di cui non sappiamo il cognome, e però è figlio del numero 2, e il numero 2, sappiamo solo che si chiamava Nicolò, è del 1530, ed è figlio del numero 1, ed ecco qui il mio capostipite, dal quale sono poi, poi discese tre diverse famiglie, ecco qui è Pietro Margoni nato nel 1500, in pochi minuti sono riuscita a recuperare la mia famiglia, appunto dal nonno Valentino nato nel 1875, fino a ritroso a Pietro nato nel 1500, e naturalmente non posso non fermarmi qui, perché non mi interessa solo sapere la discendenza diretta maschile, ma mi interessano anche le femmine, per cui la famiglia dei Zuccati, dei Perini, dei Rigotti, dei Maltratti, dei Parisi, posso andare a cercare tutte queste famiglie, ora non voglio annoiarvi, ma vi faccio vedere una famiglia per mostrarvi una problematica possibile, per cui io torno qui, nelle schede di famiglia, sull'archivio cerco i Zuccati, della nonna Rosina, che ha sposato il nonno Valentino, mi compare la scheda dei Zuccati, anche la famiglia dei Zuccati è una famiglia storica, abbiamo notizie dal 1566, sul territorio di Ciavo e Padamione, vado come ho fatto prima, non a cercare qui, che vado sul sito, ma qui a cercare nella scheda, col CTRL F, e cerco la Rosina, cerco la Rosina, vedo che Rosina ce ne sono due, come prima vado a ritroso, ok, e trovo questa assunta Rosina, vissuta tra il 21 e il 22, perciò non è lei, e questa è che è una sposa di un Zuccati, si chiama Rosina Cornella, perciò non è lei, cioè non c'è una Rosina, come me la posso cavare in questi casi, vado a cercare Valentino, suo marito, oppure vado a cercare suo padre, ok, allora anche qui Valentino ne ho 36, vado a ritroso, dall'ultima pagina, vedo che questo è il padre della sposa, il padre della Maria Capelletti, vado a ritroso, e trovo questo Valentino Margoni, eccolo Valentino Margoni, che ha sposato Rosa Natalia, figlia di Angelo e annunziata Zuccati, ingrandisco, figlio di Angelo e annunziata Zuccati, cioè corrispondono i nomi dei genitori, corrisponde il nome del marito Valentino, qui è Valentino Desiderio la nascita, e lei, la Rosina, nata nel 1893 e morta nel 68, così si chiamava sul registro dei matrimoni, sul registro di nascita è segnata Rosa Natalia. Questo, in questa famiglia, si ripete questo problema, perché Rosina era Rosa Natalia, perché Lorenzo, lo zio Lorenzo si chiamava Antonio di primo nome, la zia Teresina si chiamava Teresa, la zia Delfina giusto, la zia Maria giusto, la zia Catina si chiamava Margherita Caterina. Difficile da trovare, se io vado a cercare Catina, Catina non la trovo proprio. Quattro nomi su sei sono storpiati dall'uso che se n'è fatto nella vita, dal momento del battezzo hanno ricevuto un nome, ma che poi quel nome non è stato poi utilizzato nella vita. Mi fermo qui, era solo per farvi vedere questa cosa curiosa che può capitarvi, vi auguro di riuscire a trovare la vostra genealogia se vi interessa, perciò vi invito a visitare l'archivio della memoria, lo trovate semplicemente con un motore di ricerca, archivio della memoria della Valle dei Laghi, andate nella sezione genealogia e trovate tutte queste informazioni, grazie ancora una volta a Ettore, che ha fatto tutto questo lavoro e al quale perciò va tutta la nostra gratitudine. Grazie Ettore